Il mazzo è forte, vedi Gianluca? Sei un po' aspa, ma io non ce lo metto lo zucchero. Ma vedi che maschio che sei, eh? Dai cazzo, bevi! Signore, se ne hai due euro che mi devo comprare il biglietto del treno, per favore? Che cosa? Ciao Nicolò! Ciao Gigetto! Mangiamo? Mamma, esco! Andai? A comprare la droga! Va bene, ma non puoi perdere, non mi voglio dare la premiazione del treno di Luigi! Eh, uffa, che palle! Ma non ci metto poco, perché dobbiamo fare un cocktail di droghi! Yeee! Yeee! Ciao, ciao! Ciao Nicolò! Ciao, zio! Ricordati la premiazione! E se siamo ancora a BBC! Sì, sì! Ciao, ciao! Ciao! Ma... Se sono ancora vivi... Com'è questi ragazzi?